Ciao a tutti e buongiorno! Allora, sono appena tornata al wok and sushi perché stamattina, verso fine mattinata, mi ero preparata per andare in biblioteca poi ormai era l'ora di pranzo e ho detto mangio a casa, però c'avevo da cucinare non avevo voglia di cucinare, quindi ho convinto il babbo ad andare a mangiare al wok and sushi che sarebbe uno di quei posti che fa appunto griglia, wok e anche cinese e sushi a nastro vabbè, è uno dei miei posti preferiti per abbuffarmi infatti ora sono un po' letargica vabbè, ora devo studiare, comunque ora prendo i libri e vado in biblioteca perché stamattina mi ero appunto preparata per andare in biblioteca vi volevo ricordare che stasera, oggi è l'ultimo giorno dei wikin outfit spero vi sia piaciuta, fatemelo sapere e quindi stasera chiudo il giveaway, quello di Rom, che è nel primo video della wikin outfit quindi dopo mezzanotte i commenti non saranno più validi e io domani o domani all'altro estrarò e pubblicherò il video allora, per quanto riguarda gli accessori, ho soltanto questi orecchini qui della fiera dell'antiquariato qui d'Arezzo le mani non ho niente perché gli anelli mi danno noia per scrivere e poi il trucco, vabbè, un po' di ombretto sfumato intorno all'occhio, il mascara e il casual sfumato soltanto sulla fine dell'occhio allora, oggi sono così partendo dai piedi, ho queste scarpe nuove di Rom che sono questi stivaletti con molto plato, cioè diciamo tacco e plato tutti uguali e sono molto comodi perché nonostante siano piuttosto rigidi, però c'è il piede tutto in pari quindi, buono, sono comodi e se non ne mettono invece sono leggerissimi, sono proprio, cioè sono scarpe senza peso tipo comunque questi stivaletti di Rom sono nuovi, vi lascio il link nell'info box poi i calzini per unirli un po' alla gamba e un po' alzare l'effetto ottico le calze semicoprentini, non so dove, calze d'olio, per una cosa del genere poi ho questi shorts strappati di H&M che ho preso ai saldi, agli ultimi saldi estivi, questi qua poi ho la cintura che ho preso a Camden Town a Londra e è vecchissima quando andai a Londra la prima volta poi questa maglietta invece che ho preso da Brandy Melville ma la trovate tranquillamente tipo anche al mercato ora, insomma, va molto quindi c'è un po' da tutte le parti e sopra ho questo cardigan con la cerniera e le tasche che è tipo sfumato sul bordeaux e ha le maniche nere, tipo melangiato bordeaux e ha le maniche tutte nere invece ok? questo è di H&M, questo vecchio, c'era tipo l'inverno scorso e poi questa borsa che è di Zara, questa borsa a sacco ampia e però questi manici sono troppo ingombranti quindi io usualmente la tengo con i manici dentro e poi chiusa, così, che fa proprio effetto sacchetto va bene, questo è l'outfit di oggi la settimana è finita spero vi sia piaciuto tutto questo ma fatemi sapere anche se ne volete vedere altre se vi interessa e al prossimo video ciao ciao